Gennaio 1932 Arriva la più grande insurrezione popolare di sempre in Centro America L'esercito soffoca l'insurrezione dei contadini guidati da Augustin Farabundo Martini In meno di 72 ore 30.000 contadini furono uccisi In meno di 72 ore Gli indigeni subirono una vera e propria pulizia etnica In meno di 72 ore I costumi tradizionali vennero soppressi Come si sa che nessuno Nessuno si aspettava che noi I nessuno I senza nome Gli ultimi I poveri salvadoregni Potessimo qualificarci a questo mondiale Eliminando il Mecico L'orrore di volti bruciati Di corpi scordeggiati Di donne e uomini scarnificati Di bambini Tra i campesinos come te Paola Amica, compagna Mi sporco le mani di terra Sono come te La mia storia è la storia di tutto il posto Con lo del Estado En contra del Pueblo E il Pueblo, a su vez, tiene il derecho legittimo a defenderse E il Pueblo, a su vez, tiene il nostro corso di E il nostro corso di E il nostro corso di E il nostro corso di